Bene amici, dopo aver visto la camera 360DLG andiamo a vedere i VR, i 360VR, un altro dei Friends, del G5 e lui è molto amico del G5 perché fondamentalmente funziona solo con il G5 l'ho provato con altri telefoni con uscita USB di tipo C ma non funziona l'applicazione si può scaricare dal Play Store ma si inchioda vabbè, il design e la forma a me non dispiacciono non sono molto pesanti, solamente 134 grammi abbiamo due oculari e togliamo le protezioni tra l'altro veramente interessante la tecnologia che c'è dietro perché sono dei display dentro due display da 1.8 pollici addirittura con una definizione altissima perché parliamo di 960x720 pixel addirittura 639 ppi nonostante questo quando andiamo a guardare dentro un pochino i pixel si vedono perché siamo molto vicini e le lenti ingrandiscono sono regolabili, vi faccio vedere, per adattarli alla larghezza dei nostri occhi quindi all'interasse tra i due occhi e anche bisogna girarli per regolare il fuoco molto scomodo regolare il fuoco perché vedete dobbiamo girare questo oculare e immaginate voi quando ce li abbiamo addosso è scomodo comodo invece il nasello ma andiamo a vedere come funziona cercherò di farvi vedere anche quello che si vede dentro grazie all'area camera che appiccicherò a un oculare, vediamo se ci riusciamo li colleghiamo al telefono, all'LG G5 ci sono due pulsanti sopra, ok e back come vedete i VR si stanno avviando abbiamo sotto anche il jack per collegare una cuffia, un auricolare da 3.5 per tenerlo nelle orecchie altrimenti l'audio lo sentiremo direttamente dal telefono dobbiamo indossarli, quando li indossiamo c'è un sensore di prossimità lì che sente gli occhiali addosso io metterò qua l'area camera, vediamo se riusciamo tengo gli occhiali così in modo da farvi vedere quello che sta succedendo, quello che vedo io vedete le informazioni sulla sicurezza e posso premere o l'ok che ho qua sull'occhiale oppure tappare sul telefono perché in questo caso quando abbiamo i VR addosso vedete il telefono diventa nero, lo schermo diventa nero e il mio tap equivale all'ok siamo entrati, vedete quello che possiamo fare qua possiamo andare a vedere le foto che abbiamo sul telefono foto e video 360, i canali di realtà virtuale oppure le applicazioni, la galleria, gli sfondi perché è possibile modificare lo sfondo e ce ne sono due, vedete se mi sposto posso selezionarli e applicarli o col tap qua o con l'ok ci sono qua le impostazioni che possiamo dargli e possiamo regolare cosa? la luminosità, riorientare il VR ma soprattutto decidere se visualizzare le notifiche quando visualizziamo altre cose sui VR parto con i contenuti sul telefono qua possiamo vedere tutte le foto che abbiamo sul nostro smartphone ci spostiamo con gli occhi per selezionare ovviamente un contenuto a 360 gradi questo per esempio, questo è un video che ho fatto in parte con la camera LG a 360 gradi in parte con la camera di Samsung a 360 gradi e vedete io riesco a visualizzare praticamente una porzione di video e se mi giro vedo il resto quindi un visualizzatore di realtà virtuale molto completo come vedete i pixel, un filo si vedono ma devo dire che la qualità generale non è assolutamente male ora vi faccio vedere come si può scrivere su un campo di testo vedete o possiamo fare una ricerca vocale oppure qua sotto cliccare sulla tastiera e muovendoci con la testa selezioniamo le lettere poi possiamo dare l'ok o con il pulsantino sul VR oppure con il click sullo smartphone magari sarebbe stato più comodo in questo caso che lo smartphone diventasse tastiera però se ho i VR addosso in effetti non riuscirei a usare lo smartphone quindi video YouTube che si possono tranquillamente visualizzare in questa maniera ecco purtroppo questo non è un video 360 quindi non è un video che è interessante vedere ma proviamo a cercarli video 360 su YouTube usiamo la tastiera inseriamo il numero 360 video 360 gradi un canale qualsiasi ok apriamo questo video vedete che in questo momento è arrivata una notifica come la vedo? è come se fosse tridimensionale un pochino più avanti rispetto al video che vedo là in fondo adesso li tolgo perché è stata veramente un'impresa epica spero che poi in fase di montaggio di riuscire a farvi vedere qualcosa allora pro e contro di questi VR prima di tutto mi sono piaciuti perché la qualità di visione è buona è vero che un pochino i pixel si vedono però tutti i VR che ho provato hanno questo tra virgolette difetto e rispetto ai VR che costano molto di più questi LG devo dire che hanno praticamente la stessa qualità di visione quello che invece non mi ha fatto impazzire è il sistema ovvero le applicazioni che ho sullo smartphone non posso trasferirle al VR cioè se io guardo l'applicazione di YouTube non è quella che visualizzo dentro i VR non posso per esempio giocare ai giochi Real Racing o altri giochi nei VR ma devo sempre passare per l'applicazione VR Manager che è questa la quale applicazione mi manderà su uno store a parte vedete che mi suggerirà delle applicazioni quindi è tutto un mondo in divenire per adesso le applicazioni ce ne sono pochine Epic VR e Junt VR non ci sono tantissimi video se clicchiamo qua andiamo nei canali VR che però sono fondamentalmente quelli che vi ho fatto vedere prima e qua le informazioni sul dispositivo e anche l'eventuale aggiornamento software che tra l'altro mi ha fatto fare non appena li ho collegati per la prima volta al G5 costano 279 euro ma hanno senso i lettori VR beh, devo dire la verità a me non sono dispiaciuti questi tra l'altro rispetto ad altri visori che ho utilizzato mi hanno fatto venire meno il senso di nausea non sono molto pesanti anche perché non dobbiamo mettere il telefono che faccia da schermo ma loro hanno degli schermi integrati la cosa che non mi ha fatto impazzire è che lavorano praticamente solamente col G5 in simultanea con l'app per il G5 quindi non tutte le applicazioni che abbiamo sullo smartphone vengono trasferite ai VR ma solamente alcune e quindi qua siamo nelle mani di LG per l'implementazione di vari giochi applicazioni o comunque per tutto questo mondo a 360 gradi che è ancora secondo me pionieristico comunque comunque vi sono piaciuti soprattutto per visualizzare i contenuti che facciamo con le camere a 360 gradi oppure per visualizzare meglio i video su YouTube andate a vedere i video che ho fatto a 360 gradi magari con i VR perché? perché sono sicuramente meglio che visti su uno smartphone potete prendere anche i cardboard di cartone un saluto da Andrea Galeazzi punto com punto com punto com